Ultima ora. Trovato il corpo sotto a un ponte. È il giovane scomparso da giorni. Prima di scoprire tutti i dettagli, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. È stato trovato morto nelle campagne di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. La polizia ha confermato che dell'uomo si erano perse le tracce da mercoledì. Ospite di una casa famiglia a Frassinetopo, Valerio Miceli, un uomo di 30 anni, si era allontanato a piedi da un'ambulanza chiamata per un suo malessere. Il personale della protezione civile ha ritrovato il suo corpo sotto il cavalcavia sul fiume Po, lungo la Genova Gravellona. Sul luogo del ritrovamento erano presenti agenti del commissariato locale, la scientifica e il medico legale. Il riconoscimento del corpo è stato effettuato da un familiare. La madre di Miceli aveva lanciato un appello per ritrovarlo durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, la sera del 19 giugno. Da qualche mese, Miceli risiedeva a Frassinetopo in una struttura residenziale per pazienti psichiatrici, dedicata a programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo. Nonostante fosse stato lui stesso a richiedere l'intervento dell'ambulanza, Miceli era poi fuggito, rendendosi irreperibile fino al tragico ritrovamento. Ti invitiamo a lasciare un commento per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video, a presto con un nuovo contenuto su Febbre da Gossip. Grazie per aver guardato il video. Grazie. Grazie.